Ciao ragazzi, benvenuti su Italian Film Collector Channel, il vostro canale di collezionismo un video. Niente, sono qui per presentarvi gli ultimi tre arrivi, ma tre arrivi di spessore, tra l'altro un grande recupero fatto a sorpresa su Amazon da venditore terzi, ma vedrete di cosa si tratta. Ovviamente il tutto dopo la sigla. Ed eccoci qua ragazzi, niente, avvicino un po' il tavolino perché stavolta l'ho messo un po' troppo lontano. Niente, volevo appunto presentarvi gli ultimi arrivi, qualcosa è già aperto perché l'ho aperto prima, è rimasto anche uno sigillato. Partiamo subito con il primo titolo, del quale sono rimasto entusiasta sia del film, dell'edizione 4K, che della Steelbook. Parlo semplicemente di Violent Night, che non è altro che in italiano, scusate lo leggo perché non me lo ricordo, lo sto chiamando sempre Violent Night, è una notte violenta e silenziosa. Ragazzi, Steelbook davvero fenomenale, guardate che bella. Stupenda ragazzi, questo rilievo qui, non so se si vede, spero che si veda. Come la devo mettere per farvela vedere? Eccolo qua, forse si vede un po'. Niente, ovviamente 4K e Blu-ray. Andiamo a vedere anche l'interno della Steelbook, che è molto bello. Ovviamente l'avevo comprato sigillato su Amazon. Molto molto bella ragazzi. E niente, il film per me è un... Ragazzi, scusate un po' la voce, purtroppo non sto in ripresa. Il film è un action, un horror, una commedia. Secondo me è destinato a diventare uno dei prossimi cult di Natale, ma non solo. Perché per me questo è il classico film, che anche se è ambientato prettamente a Natale, non è soltanto un film natalizio. L'attore, ora non ricordo il nome, vediamo un attimo se lo trovo qui, magari sicuramente sarà impronunciabile per me. David Harbour, quindi è pronunciabilissimo, è l'attore che ha fatto Stranger Things. Quindi molto molto bello questo film. Allora, i contenuti speciali sono scene eliminate ed estese, dietro le quinte, addobbi rissosi, il cringle della lite, commento al film e altro. Quindi è anche molto ricco di extra. L'italiano ce l'abbiamo, abbiamo l'inglese e il tedesco in Dolby Atmos. L'italiano, il francese e lo spagnolo in DTS HD Master Audio 7.1. Quindi è anche un audio di tutto rispetto. Ragazzi, ripeto, per me vale l'acquisto. E se fossi in voi vari amanti del collezionismo estremo, terrei occhio a questo film, non posso dire altro. E niente, quindi molto molto bello, consigliato, consigliato davvero. Ora non ricordo se è pagato intorno ai 22 euro, non ricordo, ha preso la settimana scorsa in realtà. Arrivato il giorno dopo invece questo, che ho ancora sigillato, altra steelbook stupenda, Schinderlist, in 4K. Non ho preso, diciamo, la versione col cofanetto, ma ho preso questa. Però a compenso ho preso la Raro Film Studios, che poi arriverà, penso, nei prossimi mesi. Quindi mi piaceva la steelbook, comunque ho preso la steelbook. Sono quei film che, ragazzi, lo sapete, chi colleziona come me, sa che anche 3, 4, 5 edizioni dello stesso film non gli bastano mai. Quando i film, ovviamente, sono come questi, eh. Andiamo a togliere il flyer. Flyer, ovviamente, con la colla. Flyerino, pure leggerino. Stavolta, però, la colla è venuta via facilmente. Ragazzi, è una steelbook pazzesca. Pazzesca. Cioè, non so se rendo l'idea. È pazzesca. 4K Ultra HD e due Blu-ray. È bellissima, ragazzi. Sono stracontento di aver fatto questo acquisto. Abbiamo un disco soltanto bonus, cioè, quindi, soltanto extra. Dopo, ovviamente, vi leggo dentro. Ovviamente, ragazzi, qui il film non ha bisogno di presentazioni. Guardate che bella anche dentro. Ma poi, questo effetto lucido, ragazzi, è fenomenale. È bellissima. È bellissimo. Sto diventando ripetitivo. È bellissimo. Ma quanto so strano quando faccio i video. Mi metto le cose lontano. Mi devo allungare. Mi devo... Va bene. La fine lo facciamo con passione. Quindi, cazzo, ci frega. Sicuramente non sto lì a farmi tutte le pipette. A fare il precisino. Cioè, ragazzi, quello che conta è questa. Guardate che bella. Poi, allora, in alta definizione, supervisionato a Steven Spielberg, vincitore del premio Oscar, come miglior film nel 1993. Come contenuti speciali abbiamo Schindler List 25 anni dopo, Voci dalla lista, un documentario con testimonianze di chi è sopravvissuto all'olocausto e con riprese d'archivio. La storia della USC Shoah Foundation con Steve Spielberg e molto altro ancora. L'italiano abbiamo il DTS 5.1, mentre in inglese c'è il Dolby Atmos. Ovviamente... Ah, qui c'è anche il Dolby Vision. Non so se... Allora, ragazzi, a volte il Dolby... No, qui no. Il Dolby Vision a volte io non lo leggo, perché avendo una Samsung come televisore non supporta il Dolby Vision. Quindi soltanto l'HDR 10 Plus o l'HDR 10. Però, effettivamente, quando mi ricordo ve lo dico, qui c'è anche il Dolby Vision. Quindi un surplus per chi, anche se, a conti fatti, è poca la differenza, eh? Sempre quel peletto. E niente, quindi, bellissima Steelbook, vi consiglio anche questa. Film immancabile in ogni collezione. E niente, ora arriviamo alla chicche... Ah, tra l'altro di Schindler List io ho la vecchia edizione della collezione, quella Blu-ray. Per quello farò un video con chicche dal passato, quindi per la rubrica chicche dal passato. Ovviamente ci saranno anche altre rubriche. L'altro arrivo, quello che vi parlavo, recuperato da Amazon un po' a culo, scusatemi il termine, è Se donne per l'assassino di Mario Bava in 4K. Perché vi dico a culo? Perché, semplicemente, questo cofanetto è uscito fuori catalogo. Sia sul sito Aruv, perché comunque è un'edizione Aruv, e sia su Amazon e vari altri siti. Si trova il Blu-ray, che comunque è buonissimo, perché pensate che in Italia eravamo fermi forse al DVD. Io da giorni vedevo questo... Quando andavo sulla sessione 4K c'era questo usato da venditore terzi, però spedito da Amazon. Tipo costava 37,99. Ed ero sempre tentato, ho detto, ma perché poi portava usato perfetto. A un certo punto mi sono detto, vabbè, io ho fatto una domanda, scusi al venditore terzo, ovviamente straniero, se era in 4K e se veramente era perfetto. E mi rispondono, non lo sappiamo, perché ce l'abbiamo appunto nel negozio Amazon, nel magazzino Amazon, a massimo fai il reso. Ci ho aspettato un paio di giorni, eppure è scesa a 35 o qualcosa. E mi sono deciso, ho detto, vabbè, lo prendo. Devo dire, è arrivato nel cellophane, ovviamente era un cellophane messo dopo, non mancava tipo la figurina HDR, quella là, bla 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 bla. E forse, secondo me, l'ho considerata un usato, perché forse qualche maniaco, perché soltanto un maniaco può fare una cosa del genere, l'aveva inviata dietro per qualche segnetto, diciamo, di cartone, ma non so, forse se si vede, cioè, sulla slip case. Cioè, dentro è perfetto, ragazzi. Il cofanetto è questo. Sì, questa qui, tra l'altro, cioè, non c'è niente di scabroso, nemmeno su questa. Cioè, era stata mandata indietro, quindi, ragazzi, quando mi è arrivata, sinceramente, mi è andata di lusso, di stralusso. Andiamo a vedere il cofanetto, quindi abbiamo la slip case, dove dietro ci porta, diciamo, tutti gli extra, tutte le cose che ci sono, che è una 4K Blu-ray Limited Edition, 6 modelle, 6 vittime, for Crazy Masked Killer. Comunque, ragazzi, ho detto prima 6 donne per l'assassino, non mi sono confuso con 5, se ho detto 5, perché c'è un altro film che è 5 donne per l'assassino, e mi sarò confuso, ma probabilmente ho detto 6, ma, meglio precisare, sono 6 donne per l'assassino, questa. Guardate che bello, il cofanetto Arrovo classico, e all'interno abbiamo, ovviamente, oltre alla Marai, con le cartoline che ora andremo a vedere, abbiamo il poster, doppia faccia, lo diciamo in italiano, questa carta opaca, molto bella, di qualità, vabbè, ma Arrovo, diciamo, non la scopro io, non la scoprite voi, diciamo, è una delle label più in voga negli ultimi anni, soprattutto quando si parla di questo tipo di cofanetti. Poi abbiamo il solito booklet che io adoro, di Arrovo, difficilissimo da fotografare per le mie foto, perché non si mantiene, diciamo, aperto, vedete, è una rilegatura che va soltanto sfogliata, però, ragazzi, è tanta roba, è tanta tanta roba. Poi abbiamo la Marai, che dovrebbe avere anche ora, dopo vediamo la copertina, non so se è doppia faccia anche la copertina, assolutamente sì, quindi vediamo una cosa alla volta. Allora, vediamo la copertina, quella standard è questa, e poi c'è questo artwork qui. Però mi piace più questa qui, a dire il vero, edizione pazzesca, ragazzi, sono contentissimo di averla recuperata. Ci sono le sei cartoline, e poi ovviamente la solita cartolina pubblicità di Arrovo. Secondo me questo cofanetto non è stato nemmeno mai, è stato soltanto aperto, hanno visto quella piccola pieghetta, e l'hanno mandato indietro, e io sono stracontento, perché ce l'ho tra le mie mani. Era uno di quei pezzi che mi rammaricavo di aver perso. Ora sto con occhio vigile su quelli Severin, i titoli che sono usciti da Severin. Purtroppo non si può comprare tutto subito, bisogna anche, diciamo, saper temporeggiare laddove è possibile, se no amen, insomma. Ok, vi ricordo che questa edizione qui contiene soltanto il disco in 4K, quindi se volete il Blu-ray, esiste l'edizione in Blu-ray, anzi, vi lascio anche il link dell'edizione in Blu-ray su Amazon, quindi se volete recuperarlo. Ragazzi, vale comunque, infatti io stavo attendendo un altro poco di trovarlo, se no questo qui 4K, se no avrei ripiegato, come ho ripiegato su qualche altro titolo, sempre estero, ho ripiegato sul Blu-ray, perché alla fin fine, diciamoci la verità, sì, la differenza c'è, però su alcuni film va abbastanza bene anche il Blu-ray. Quindi, 6 donne per l'assassino. E niente ragazzi, erano questi nuovi arrivi, sono soltanto tre, ma sono di qualità, spero che vi siano piaciuti, vi faccio rivedere un po', nello specifico, quindi abbiamo parlato di Violent Night, edizione Steelbook stupenda, tenete d'occhio questo titolo, Scindere List, altra Steelbook stupenda, e 6 donne per l'assassino del maestro Brava. 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 Ragazzi, scusate, vedete, si abbassa la voce all'improvviso. Comunque, vabbè, ritornando a questo, abbiamo anche qui il Dolby Vision, abbiamo un restauro nuovo, quindi ovviamente la lingua italiana, e ci sono un mare di extra, ma un mare, 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 mare di extra. Vi lascio un po', così, così potete fare un fermo immagine, e magari leggervelo da soli. Anche se in rete trovate tutte le informazioni, quindi, io perciò a volte mi limito, semplicemente a farvi vedere l'edizione, perché, vi faccio, diciamo, passatemi il termine, toccare con mano le edizioni, diciamo, per non farvi fare poi degli acquisti, diciamo, a scatola chiusa, e soprattutto, come dico sempre, per incuriosirvi. Niente ragazzi, questo video, momentaneamente, è l'ultimo della settimana, vediamo se riusciamo a fare qualche altra cosa, anche se, ora è venerdì sera, vediamo se domani, uscirà qualche altro video, dai, facciamo, vediamo di inventarci una rubrichina, va bene, ciao a tutti, a presto, ci vediamo sul canale, ciao, ragazzi, la campanella, il mi piace, se vi è piaciuto, ovviamente, e soprattutto, l'iscrizione al canale, non mancate, ciao, ciao. Grazie a tutti